4 ora il turno di sensi uno guarda di sé ora il mio turno il mio turno è fortunato forse sei me ne vado god god sensi guarda qua ma si chi è come godo chi è come grazie che mi avete lanciato la palla per me Allora 5, 1, 2, 3, Benedetta è il tuo turno, 4, 1, 2, 3, 4, qua, devi andare qua, devi scendere Benedetta, mi dispiace il gioco, ora è il turno di Sensi, ora Sensi capita 6 e va avanti Mai turno, imbroglione del cavolo, 4, 1, 2, 3, 4, per me la potete rilanciare per me, grazie, già lanciata ed è, 2, 2, ma ti è salito Turno di Benedetta, 2, ora è il turno di Sensi 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 4 Turno di Sere, 2, Sere 2, Sere 2, Benedetta, 5, 5, 5, Benny te l'ho tirato prima io, te l'ho tirato prima io, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, si adesso io 6, 6, 6 e 6, 2, ora il turno di Sensi, 4, 2, 2, 2, tre, 4 ma Fati già Так, 5, 6, 4 ma Fati ragione si fa in nome ne vado, 6, 7, 2, Go, Go, Go 4 5 ma ora il turno di colpi 3 1 2 3 poi dicevi che hai il tubo indietro 3 1 2 33 3 quello di quello di quello di quello di un altro 3 anche da bene anche la devi andare non vale solo che non riuscivo a salire quando sta sotto il giro benedetta 6 benedetta muoviti vabbè tornava un altro benedetta muoviti 6 1 2 3 4 6 no 5 6 5 bella no se matti fa 2 vai in altissimo va alla casella 50 sono caduto va alla casella 57 io qual ero? io ero 34 35 ma ti tocca guarda mattia ha fatto 2 no no permesso no si ora regale io mi ho fatto 5 io mi ho fatto 5 ah oh 5 va 6 6 5 la differenza tra e 2 e 2 3 1 4 5 5 là serena ma la è 5 serena non sai contare la è 5 dove è? no ma ti sto sparando 44 scusate scusate ora è il turno di sensi sensi è il tuo turno se io faccio 1 3 4 5 6 se io faccio 6 ne ho faccio 5 o 5 se hai fatto 2 1 1 2 1 2 non è vero ora è il mio turno vediamo cosa faccio 1 2 3 1 2 3 4 ma è no ragazzi io non ho tirato ora è il mio turno io non ho tirato io non ho tirato mai qual'era di beni ora è il mio 2 1 e 2 ragazzi tocca ma ti ho fatto io 2 vabbè è il mio turno ora ma se fai 2 come un riccio se fai 2 e dopo un riccio 4 1 2 3 appena è nata alla tua ma ma ti stavi qui 1 2 3 e 4 ora è il turno di benedetta no di serena no è il mio è il mio serena te l'ho tirato io ed è e che cos'è 4 4 aspettate che devo ripare il turno di benny ora 4 aspetta 4 turno di benny te l'ho tirato io benny 4 4 benny ora è il turno di ora è il turno di benedetta è il turno di benedetta e allora devi andare devi andare giù non devi rispettare devi rispettare le regole ora è il turno di benny ed è fatto 4 1 2 3 4 no di che farei tu se ci fai 2 andiamo serena aspettate no ammattia te l'ho scusate ho fatto ora è il turno di benedetta ora è il turno di benedetta 3 ora è il turno di benedetta aspetta 3 aspetta turno di benedetta vai 3 no 3 3 3 3 vabbè non ti ascolto senti il tuo turno ok ho chiamato io 1 2 3 4 5 6 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 7 7 7 7 7 8 8 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 1 2 8 9 9 10 10 11 11 12 9 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 13 12 12 13 13 15 15 15 15 16 15 25 25 25 26 26 26 27 28 28 La prima è vista già da tutto scritto, bene, benedetta, ti ricordi il numero? Tocca a me, ragazzi, tocca a me, tocca a me, tocca a me. Ma che andrea? Che andrea? Che andrea? No, io prima non l'ho fatto, bene. Ora il turno di Sensi. 1, 2, 3. Senti, vuto, ben due. Senti, vuto, benedetta. È la nuova. 5, 5, 2. Senti, vuto. 1, 2, 3. E 4. Non vale, hai avuto 2. Bugiardo del Stano. Ne, ha avuto 2, ha avuto 2, ha avuto 2. Ma il turno? Altro ero. Non è vero. 3, 1. 3, 1. Io ero, dov'ero? Dov'ero. Eri, eri qui, eri lì. 1, 2. Ponticello. Ma tu ne hanno, anche 7. Ma che bello. 1, 2, 3, io ho vinto. Se fai uno, raga, raga, fate fare uno a Sensi. Capito? 6, 4, 1, ritorno alla cascola. Questo è il turno di Benedetta. No, 1, 2, 3. Sei, Benny. Sei, Benny. Benny, sei. Benny, sei. Ora il turno di Sensi. 1, 2, risolto al gioco. 1, 1, 1. No, 3. 1, 2, 3. Non potevi prendere la moneta ora. Quindi questa coround non vale. Dovevi aspettare che... Dovevi... Dovevi aspettare... Dovevi aspettare un altro turno a prendere la moneta. Dovevi aspettare un altro turno di prendere la moneta. Ma non è vero! Ma è vero, è vero, è vero, è vero. No, però, no, non funziona come hai detto tu, funziona come ha fatto, ragazzi. Vabbè, allora... Ora inizio io, raga, allora ora inizio io e finisce i Sensi. No, inizio io e finisce i Sensi. Inizio io, perché ero un... No, no, inizio la rete che è l'ultima. Inizio io. Va bene, inizia, Mattia. No, Benedetta, poi io. E poi io. Benedetta è il tuo turno, uno, tre, tre. No, va bene? Ok. Vabbè, uno, due, tre, tu Benedetta, uno. Benedetta, uno. Tocca, 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 senti, vai. Dai, ben sei. Dove sto aspettando? Cinque. Uno, due, tre, otto e cinque. Tocca a te, Benedetta. Fattuno, Benedetta. Ora è il mio turno. Uno, 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 uno. Ma io non ho fatto nulla. Eh, vai, c'è il prossimo turno. Benedetta, uno. Devo fare io. Vai, tu, ok, vai. Aspetta, ok. Benedetta, uno. No, fortunatissimo. Sei. Uno. Benedetta, uno. L'ha fatto Serena. Ora torni indietro, torni indietro, Barona. Torni indietro, torni indietro. Erei qua. Ah, ma l'ha fatto uno. No. No, ok. Ok, io quindi devo salire qua, perché io prima ho fatto sei. No. Ma. Benedetta, aspetta, si ferma, si ferma. Altre, si ferma. Credo sei. Uno, due, tre. Avete tre piccola. Uno. No. Tre. Qua. Ok. Uno, due, tre. Vai, grano, tre, tre. Non è finito, non l'ho detto. Dobbiamo fare dieci. No, questo è il turno di Benedetta. No, Benedetta, è il turno di Benedetta. Torna qua, senti, Barone. Torna. No. Torna, se non distruggo tutto. Non è finito, non è finito, non è finito, non è finito. Ok, distruggo. No. Che avete fatto? Senti, va avanti. È stato un Barone. Diano un primo piangione, guarda. È il turno di Benedetta, ora. L'ha fatto, l'ha fatto. Quindi ora sono obbligata a distruggire tutto, perché dobbiamo riavviare. Vabbè, riavviamo, questo era un minutale. Riavviate. Perché lo sto perdendo. No, adesso è il turno di Benedetta. Inizia il turno di Benedetta. Sta perdendo. Non so che Benedetta. Oh, mi ascoltate. Inizia Benedetta, qui inizia i sensi. Perché prima è stato lui. No, perché prima è stato il primo. Adesso si parte da me. Benedetta. No, Benedetta che è stata da me. Si parte la Benedetta da me. Ma si è sensi. Vabbè, ma ovviamente potrei partire al più forte per l'ultima. Allora, Benedetta, vai, vai, vai. Vai. Ma dobbiamo Benedetta quando fa? Questo è l'ultimo round, però. Qua i round sono... 5, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 6. 4, è 4? 4 è il numero. No, no, 6. 1 di Serena. Ah, questo è il mio turno. Questo è il mio turno. 5, 5, 5. Mio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era meglio. No, tu hai tirato già. Hai detto che era 5. E io ho fatto 6. Quindi ora ho un miso per il tuo. Per me è la 6. Per me è la 6. Vabbè, facciamo io. Io, Benedetta, Serena, sensi. Vabbè, vai, vai, Serena. No, raga, distruggo tutto. Raga, distruggo tutto. Ma non è giusto. No, Marti, no. Ma non è giusto. Perché sei partito per prima? Ma che cosa è? E vi imparate? E vi imparate? Ok. Allora, ti riusci così. Ti riusci così. Prima che non ci riusciamo a regolare. Questo è stato l'ultimo. Ok, tolta Lali. E tu, tolta Lali. E bravo. E tu, tolta Lali. E tu, tolta Lali. E tu, tolta Lali. Ma sai cosa fanno adesso? No. No, no, no. Ma sai cosa fanno adesso? No. Chi che le abbiamo fatti? Ma è andato male? Ma hai andato male. Non fa niente. No, Martina. Ti parate ad regalarla. No, Martina, non direi bugie. Tu non avevi detto tre video. Avevi detto tre. No, due, 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 due. Fra, chester. io sento benetta ok raga vado a cambio un attimo come si chiama faccio un attimo una clip la manda al mio canale diciamo che video di giovedì si fanno tre